Anche Agrigento ieri celebra la giornata dell'epilessia con un convegno dal tema Epilessia all'esperto risponde organizzato dall'associazione Amici di Agrigento Ollus nella sua sede di Villa Seta. È stato diciamo per me molto bello, molto commovente anche tornare qui ad Agrigento e trovare molta gente interessata all'argomento. Oggi è l'International Epilepsy Day, cioè è la giornata che in tutto il mondo viene dedicata all'epilessia che è una condizione non rara, è una condizione piuttosto comune che poi in Italia interessa circa mezzo milione di persone con una prevalenza quasi del 1%. Stiamo parlando di quasi 40-50 mila persone in Sicilia con la possibilità che circa il 70% di loro possa trovare una cura mentre invece circa il 30% in realtà è resistente ai farmaci e quindi costituisce un serio problema medico. Come si deve riconoscere, combattere ed affrontare l'epilessia? L'epilessia è una malattia sociale e una malattia sociale significa che è abbastanza frequente nella nostra società e per cui sono i genitori stessi che purtroppo hanno l'impatto con la prima crisi epilettica del loro figlio senza essere preparati. Quasi tutti i genitori che vengono mi vengono a dire, sa mio figlio sembrava morto, mi sono detta che fa è morto. Quindi c'è un'esperienza di morte che è angosciante e che i genitori si portano appresso con la storia del loro figlio. Per cui l'approccio all'epilessia, al bambino che ha la crisi epilettica è un approccio che da una parte deve rassicurare i genitori sul reale problema del loro figlio e dall'altro deve comunque dare delle risposte. Tutte queste domande sono e è importante parlarne con i genitori a volte in maniera privata, a volte è importante parlarne in maniera pubblica, in maniera da socializzare i problemi come sta avvenendo in questa giornata. Appunto è una giornata che è centrata a tutte le domande che i genitori hanno e che pongono agli esperti, ai professionisti e se riusciamo ad affrontare queste domande riusciamo a tracciare meglio la storia dei nostri bambini. Grazie. 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 Grazie.